Oggi parliamo del celebre esercizio della matita. Ecco, dico celebre perché uno dei miei video più famosi, che ormai sta intorno alle 50.000 visualizzazioni, quindi è abbastanza incredibile, visto che è stata pochissima online, è proprio il mio video in cui io spiego l'esercizio della matita. Ci tengo a sottolineare, inizialmente, faccio una premessa che l'esercizio della matita non l'ho inventato io, tanto è vero che in rete ce ne sono tante di persone che fanno questo esercizio, ma l'esercizio della matita l'ho reinventato io. Nel mio metodo Amo la mia voce, l'utilizzo della matita viene fatto in maniera molto particolare. E questo perché, dopo 20 anni di esperienze al microfono, come speaker, attore e doppiatore, spesso, sin dall'inizio, ho utilizzato l'esercizio della matita, come me lo spiegavano all'epoca, e devo dire che questo esercizio, così come me lo spiegavano, non serviva granché, non era così efficace, e non riuscivo a capire il perché. Semplicemente me lo spiegavano male, semplicemente non sapevano farlo neanche loro. Ho avuto parecchi cattivi maestri. Vi auguro nella vita di trovare dei buoni maestri, perché dei cattivi ce ne sono tanti, e quelli buoni o sono buoni o non mi insegnero nulla. Detto ciò, l'esercizio della matita consiste, semplicemente, secondo i profani, nel mettere la matita tra i denti e parlare così con la matita tra i denti. Quindi io parlo così con la matita tra i denti e secondo voi ho risolto il problema. E che cosa ho risolto se io parlo così con la matita? Che cosa sto facendo? Sto certamente rendendo più difficile il mio modo di parlare, ma ai fini dell'articolazione non sto combinando granché. Questo perché non sto facendo altro che mangiarmi la matita come se fosse una liquirizia. Vedete? Quindi che cosa dicono gli scienziati della matita? Dicono, tieni la matita tra la bocca così e parla. E questi scienziati però non vinceranno mai il premio Nobel, perché invece cosa serve fare? Qual è il mio metodo? Amo la mia voce? Qual è il modo in cui ho reinventato l'esercizio della matita? In questo modo. Innanzitutto la matita si mette tra i denti, sì certo, ma come si posiziona? Si posiziona dietro gli incisivi, quindi tra gli incisivi e i canini. Mi raccomando, lasciate un po' di spazio qui, quindi gli incisivi sono leggermente avanti rispetto alla matita. La matita quindi si trova tra incisivi e i canini e gli incisivi sono leggermente in avanti. Che succede a questo punto? Che la matita deve essere trattenuta tra i denti, quel tanto che ci serve per evitare che cada. Se cade va anche bene, tranquilli, può cadere. Ed è bene che cada perché significa che non la state mordendo. Infatti, attenzione, l'errore che commettono la maggior parte dei cosiddetti profeti della matita è quello di dirvi di stringere la matita e quindi di morderla. Ecco, tutta sta roba qua invece non serve a nulla perché voi non dovete mordere la matita. Non dovete essere Hulk. dovete semplicemente posizionare la matita tra i denti. Bene. A questo punto non dovete mai sovraccaricare la mandibola e questa parte qua. Ok? Quindi tutta questa parte qua, la parte mascellare, la mandibola e la mascella devono essere il più possibile rilassate o comunque non deve esserci tensione. Se sentite tensione, soprattutto qui alla mandibola e anche alla mascella, allora toglietevi subito la matita perché vuol dire che state contraendo troppo queste parti qua. Quindi attenzione, esercizio della matita, prima regola di questo che è un meraviglioso gioco perché dovete considerare l'esercizio della matita come un gioco, come un qualcosa che potete fare nel tempo libero quando volete dedicarvi alla crescita personale, a migliorare la propria dizione e allora imparerete, prenderete l'abitudine, come io suggerisco, di leggere ad alta voce e riascoltarvi. Prima di leggere fluidamente esercitatevi sempre con la matita. Perciò, prima regola della matita tra i denti, tra gli incisivi e i canini, mi raccomando, non stringete, non mordete la matita e non contraete la mandibola e la mascella. assolutamente. Quindi, la mascella e la mandibola devono essere rilassate. Altra regola del gioco fondamentale che nessuno vi dirà mai e che invece vi dico io è quello di utilizzare la matita partendo dal mio esercizio, quello proprio cardine, base del metodo amo la mia voce, che è l'esercizio del sorriso. Molti di voi forse lo conosceranno, ve lo ripeto velocemente, l'esercizio del sorriso consiste appunto nel tenere sempre un po' di sorriso quando si parla, quando si pronunciano delle parole, per rendere la nostra voce più suadente, per rendere i nostri suoni più melodiosi, più gradevoli da ascoltare. Il sorriso aiuta sempre. Sorridere fa bene alla vita, perché sorridendo noi abbiamo un approccio più positivo rispetto a ciò che ci accade, abbiamo una maggiore energia positiva e soprattutto il sorriso è anche accattivante e invitante per coloro che ci conoscono, anche per la prima volta, coloro che ci accolgono. Se noi abbiamo un sorriso ci accoglieranno certamente con maggiore piacevolezza. Questo perché ricordiamoci che il sorriso è alla base proprio della nostra infanzia, perché quando eravamo piccolissimi che cosa facevano? Eravamo dei neonati e facevano che carino, ma che carino, che carino, tutta sta roba qua la facevano col sorriso tutti quanti. Quindi la prima cosa che abbiamo imparato noi, la prima espressione più comune che abbiamo conosciuto negli altri è stata appunto il sorriso. Perciò sorridere automaticamente predispone l'altro in maniera positiva perché gli ricorda questo sorriso che effettivamente noi conosciamo da quando siamo piccoli. Sorridere fa bene quindi nella vita, ma fa bene soprattutto all'addizione perché secondo il mio metodo Amo la mia voce il sorriso è alla base proprio dell'articolazione. Quali sono gli esercizi che faccio fare ai miei allievi? Solitamente chiedo proprio di fare l'esercizio del sorriso con la E, la E chiusa. Abbiamo una A, una E, abbiamo una E chiusa, quindi E. Come si forma la E chiusa? Tenendo uno spazio tra l'arcata superiore e inferiore, quindi tra i denti, un leggero spazio, E, e tirando gli angoli della bocca e quindi amplificando questa parte qui anche delle labbra, distendendo labbra e gli angoli della bocca a pronunciare proprio una E, che è la E del sorriso. Quando fate una foto o un selfie o soprattutto quando siete in gruppo si diceva una volta CIS, adesso potete anche dire E e sicuramente otterrete lo stesso effetto. In più vi allenerete anche con la respirazione diaframmatica perché se dite E, 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 in maniera prolungata per più di 10-15 secondi state esercitando anche il vostro diaframma che vi ricordo che è l'organo preposto a spingere l'aria verso l'esterno. A che serve spingere l'aria verso l'esterno? È a produrre la voce. Perché che cos'è la voce? È il frutto della vibrazione delle corde vocali. Ma le corde vocali sono uno strumento a corde? D'accordo. Però non possiamo strimpellare le corde vocali. Le possiamo far vibrare soltanto attraverso il respiro. E cosa spinge l'aria verso l'esterno? Cosa fa vibrare le corde vocali? Il respiro che viene sospinto verso l'alto, la diaframma. Quindi nelle prossime lezioni e troverete già dei video all'interno del canale YouTube troverete appunto come si esercita la respirazione diaframmatica per migliorare il proprio timbro vocale. Tornando all'esercizio della matita continuiamo quindi con le regole che sono preziose per fare l'esercizio della matita così come lo faccio io e così come serve per ottenere finalmente dei risultati. Tornando all'esercizio della E questa E la dobbiamo applicare anche con la matita. Quindi una volta sistemata la matita tra i denti vi raccomando di mantenere sempre questo sorriso E quindi cercate il più possibile di tenere distanti le labbra dalla matita. Invece di fare così e di parlare come fanno gli stupidi che non sanno e non conoscono l'esercizio della matita vi fanno solo perdere tempo invece quello che dovete fare è cercare di mantenere il più possibile il sorriso e cioè cercando di distanziare il più possibile le labbra tra di loro. È naturale che ci saranno alcune consonanti come la M, la P, la B in cui le labbra si dovranno congiungere perché per pronunciare quella sillaba quella consonante dobbiamo congiungere le labbra. Una volta che l'abbiamo congiunto e poi torniamo magicamente nella posizione del sorriso quindi utilizzate soltanto quell'attimo che vi serve per pronunciare la consonante e poi mi raccomando tornate nella posizione del sorriso e questo è sicuramente un aspetto fondamentale dell'esercizio. Un'altra cosa che nessuno vi dice e che invece fa parte del mio metodo è di utilizzare la matita in un modo molto particolare. All'inizio per esercitare l'articolazione è necessario ovviamente leggere ad alta voce con la matita ma se noi leggiamo citando il prologo del manuale del guerriero della luce di Paolo Coeio nella spiaggia est del paese sorge un gigantesco tempio con tante campane e disse alla donna vi renderete conto che non sto muovendo le labbra non sto sforzando nulla in pratica è soltanto come se avessi una liquirizia in bocca oppure una gomma da masticare qualcosa che mi dà un po' di fastidio ma che non mi porta a nessun esercizio di articolazione né di maggiore flessibilità delle labbra, della bocca. Invece cosa dobbiamo fare? Dobbiamo utilizzare l'esercizio della matita per leggere sillabando dobbiamo cioè compitare questo verbo compitare rappresenta proprio la lettura in questo caso non espressiva perché ci serve una lettura tecnica perché dobbiamo applicare questa tecnica per un motivo molto particolare noi dobbiamo allenare i muscoli facciali noi abbiamo ben 80 muscoli facciali e questi muscoli una gran parte di essi sono appunto preposti a aiutarci ad articolare di più e anche a esprimerci quindi con maggiore chiarezza perché se noi pronunciamo le vocali tenendo la bocca chiusa se io dico a, e, e, i, o, u vedete che non muovo la bocca come un ventrilogo molti di noi diciamo a, e, sì dimmi una a, a, dimmi una e, e, e invece sentite come il suono è molto più limpido e più chiaro a, e, e, i, o, u se noi utilizziamo questi muscoli facciali soprattutto i muscoli delle labbra e apriamo la bocca in senso verticale allora i suoni saranno molto più puliti e vi ricordo che per poter ampliare ciò è necessario anche parlare con un certo sorriso il sorriso, vi ricordo, che aiuta specialmente poi nell'esercizio della matita perciò come si usa la matita sillabando cioè leggendo ad alta voce e compitando cioè dividendo le parole proprio sillaba per sillaba leggendo lentamente perché per ogni sillaba dovete articolare bene le vocali soprattutto e anche le consonanti dovete cioè concentrarvi su ciascuna sillaba che compone la parola nella parola dizione abbiamo tre sillabe quindi di, zio, ne dove cade l'accento tonico? su zio e cos'è l'accento tonico? è l'accento su cui che cade su una vocale che si chiama tonica in questo caso è la o l'accento tonico cade sulla o la o può essere aperta e chiusa l'accento tonico quindi diventa anche un accento fonico che può essere acuto o grave è acuto con le vocali chiuse e grave con le vocali aperte nella parola dizione la o è chiusa e quindi abbiamo un accento acuto che connota appunto una vocale chiusa e cioè la o chiusa se noi abbiamo quindi la parola dizione di, zio, ne allora leggeremo così di, zio, di, zio, ne di, zio, solo qua sono costretto a muovere le labbra quindi di, zio, ne vedete appena finisco di congiungere di, zio, ne torno subito nella posizione di partenza ed è questo l'esercizio fondamentale cosa significa perciò leggere ad alta voce compitare e fare in modo che la nostra voce possa articolare bene le parole dividendole in sillabe vi faccio un esempio citando sempre l'inizio del manuale del guerriero della luce di Paolo Coelio che ho pronunciato poco fa e quindi vi dico che mentre la maniera inutile di leggere il testo sarebbe nella spiaggia a est del paese sorge un gigantesco tempio con tante campane disse la donna invece l'esercizio è come vedete ho appena utilizzato la matita per compitare cioè per leggere sillaba per sillaba e quindi per pronunciare ciascuna parola dando risalto alla sillaba in particolare modo alla vocale che compone la sillaba perché è la vocale che è al mio modo di vedere l'architrave la base su cui si poggia la consonante quando qualcuno vi dice non ho capito bene puoi dire meglio cercate di articolare ebbene non concentratevi soltanto sulla consonante bensì concentratevi soprattutto sulla vocale perché è la vocale su cui si appoggia la consonante se voi sbagliate una parola se voi dovete dire una parola tipo un nome ruggeo cioè ci sono persone che hanno la r francese ruggeo se voi vi concentrate soltanto sulla r ru r la r si poggia sulla u ruggeo la r si poggia sulla o quindi date grande attenzione all'articolazione delle vocali perché ripeto sono la base l'architrave su cui si basano si poggiano le consonanti e quindi la base di ciascuna sillaba perciò ricordatevi che l'esercizio della matita è molto importante l'unico modo per farlo vi ripeto qual è mettere la matita tra i denti e quindi tra gli incisivi e i canini cercare di non sovraccaricare la mandibola e la mascella e poi fare in modo che ci sia sempre un sorriso cioè che le labbra siano distanziate il più possibile dalla matita per utilizzare bene la matita le ge te lentamente articolando si la va per si la va e questo è interessantissima come trovata che ho sperimentato io e poi nella prossima lezione vi dirò anche una cosa importante che adesso vi tengo in sospeso suspense perché con l'esercizio della matita noi ci esercitiamo questa parte qua orizzontale però non riusciamo ad esercitare la parte dell'apertura della bocca in senso verticale come possiamo fare per fare questo arrivederci alla prossima puntata di Caruso Speaker dove si impara la dizione e anche tu finalmente potrai dire io amo la mia voce ciao ciao